La Biagiola International School of Archaeology provides the opportunity to attend lectures and practice on a complex multilayered site. 2500 years of history to be deciphered, a stimulating experience of a great educational value. La Biagiola International Summer School of Archaeology quest'anno ha visto la collaborazione di studenti americani e studenti cinesi provenienti dall'Università di Sun Yat-sen. L'area scavata quest'anno ci ha permesso di rinvenire strutture romane, etrusche e, a quanto pare, ma gli studi ce lo diranno, anche precedenti all'insediamento fino ad ora scoperto. La Biagiola International School of Archaeology